Ciao a tutti e bentornati su The Italian Maker. C'eravamo lasciati che avevo venduto la Canon 5D ed ecco qua la sua sostituta, ovvero la Canon R6. In questo video, un po' qui l'interno in studio e un po' all'esterno, andremo ad analizzarla per capire un po', nonostante è un prodotto uscito circa due anni fa, ma è ancora molto valida anche perché adesso si trova a un prezzo veramente concorrenziale e competitivo. Col fatto che è uscita la Mark II, ha qualche miglioria, ma neanche così tante. Quindi se volete risparmiare qualcosina, io questa l'ho comprata usata da RCE Photo a 1800€ e secondo me per quella cifra è veramente un prodotto fantastico. Se non la conoscete vi faccio un power recap. È una mirrorless, quindi non abbiamo più lo specchio. Il mirino diventa un display da 3.6 milioni di pixel di tipo OLED, 120 frame per secondo. Quindi un mirino veramente bello, poi lo proveremo anche sul campo. Lo schermo è un 3 pollici articolato, con una buona risoluzione, si può chiudere per proteggerlo oppure possiamo tenerlo così se dobbiamo usarlo tutti i giorni o anche così se dobbiamo fare delle foto dall'alto, filmare dal basso, molto comodo. Il sensore. Il sensore è un sensore da 20 megapixel, full frame. Possono sembrare pochi, ma vi assicuro che è una bomba di sensore. Col fatto che ha così pochi megapixel, che comunque 20 per l'80% delle situazioni bastano, ha una tenuta ISO fantastica. Arriva fino a 102.400 ISO, ma il rumore non si vede. L'ho un po' provato, ho fatto degli scatti anche a 25.000 ISO e applicando la riduzione del rumore sul RAW chiaramente non fa il grezzo. Il file è veramente pulito e molto molto inciso. Quindi veramente un sensore fantastico. Inoltre, col fatto che ha così pochi megapixel, è molto rapida, molto veloce, ha una raffica di 20 frame al secondo con un buffer di 1000 JPEG o 120 RAW, che comunque non è affatto male. Con l'autofocus continuo, con l'aggancio dell'occhio. L'autofocus è incredibile. Lo proveremo sul campo. A livello di ergonomia rispetto all'R5 perde il display superiore. Il corpo diventa molto più piccolo. L'assenza dello schermo la rende più sottile, la rende più leggera. Adesso la stiamo vedendo con la lente in bundle, il 24-105. Questo è un F471. È vero, è un po' buio. Però questa macchina ha uno stabilizzatore sul sensore fenomenale. Più la lente è stabilizzata, quindi l'accoppiata stabilizzatore della lente e del sensore ci permette di avere 5,5 stop di stabilizzazione. Quindi nonostante sia F71, possiamo scattare a tempi lenti e non avere grossi problemi, anche se è buia. O se no, alzare l'iso, tanto abbiamo detto che regge molto bene. Il fatto che però questa lente è così buia la rende molto compatta, nonostante sia da 24-105, è molto leggera. Pensate, il corpo pesa circa 650 grammi e la lente 350, quindi abbiamo un'accoppiata da circa un chilo, che è il peso di quasi solo la 5D da sola. Ha un po' meno pulsanti della 5D. È un filino meno professionale come corpo, però comunque abbastanza pulsanti personalizzabili. Ha l'ingresso di cuffie, microfono, scatto esterno, HDMI e connettore USB di tipo C 3.2. Quindi velocissimo, si può collegare al computer e utilizzarla come webcam. Si può ricaricare col caricatore, ad esempio, del Mac. Lasciala dentro e la batteria che c'è all'interno, che è una LPSI NH. Quindi però comunque l'LPSI classica, compatibile con tutte le Canon full frame, si può riutilizzare. E nonostante sia una linea R6 e non la R5, che è la sorella maggiore, ha comunque, a differenza della 6D, per esempio, un doppio spazio per le schede di memoria, entrambe SD card veloci. Altri aspetti. Può girare video in 4K a 60 frame per secondo, in 10 bit, in C-Log 1 o C-Log 3. Quindi ci permette di avere un file a cui applicare delle LUT. Altra caratteristica comoda, che la rende perfetta per i videomaker, è la modalità video separata dalla modalità foto. Quindi noi possiamo avere dei settaggi per la modalità foto, che vengono memorizzate così. E poi switchando in modalità video ho altri settaggi. Quindi posso non dover tutte le volte impazzire a cambiare impostazioni, ma averne due separate. Però ha comunque un pulsante REC in ogni momento. Quindi anche se siamo in modalità foto e clicchiamo, lui inizia a registrare. Con però i parametri della modalità foto. Quindi bisogna ricordarsi, se vogliamo usarlo in modalità video fatta bene, andare su modalità video e far partire la registrazione. C'è da tenere presente che la baionetta è di tipo RF. Quindi se vogliamo utilizzare le lenti, quelle che abbiamo già in casa Canon, è necessario comprare l'adattatore EF-RF. Ora andiamo all'aperto, la proviamo sul campo, testiamo autofocus, gamma dinamica, qualità d'immagine. La proviamo un po' bene e poi torniamo qua in studio a analizzare a computer gli scatti. Ma eccoci giunti sul campo per la prova un po' di questa R6. Perché in studio va bene tutto, possiamo parlarvi dei dettagli tecnici, ma proviamo un po' la ciccia sul campo. Allora ci troviamo a Vigevano nella piazza principale, andiamo un po' in giro e testiamo questo nuovo prodotto. Poi rispetto alla 5D che ho lasciato, se non avete visto il video in cui spiego il motivo per cui sono passato dalla 5D alla R6, andate a vederlo, vi lasciamo il link in descrizione. Il grosso vantaggio che offre questa macchina è la possibilità di avere il sensore stabilizzato, quindi anche se mi muovo, cammino, faccio i scatti al volo, già per le foto posso scattare anche a un decimo a mano libera e soprattutto sui video ha grandissimi vantaggi. Quindi adesso facciamo anche qualche ripresa video. E inoltre l'autofocus, oltre ad avere 6.000 zone contro 60 di prima, ho l'aggancio all'occhio. Quindi io posso andare in giro, ho settato per avere questo pulsante rapido per l'autofocus all'occhio, poi è tutto personalizzabile. Clicco e al volo posso mettere fuoco sull'occhio, quindi veramente, veramente comodo. Andiamo a vedere una delle peculiarità della Canon sul mondo mirrorless rispetto alla concorrenza, durante il cambio lente. Come vi dicevo, passiamo dal 35mm, che però richiede l'anello adattatore, che è questo qui, che comunque aggiunge un po' di spessore a lente, purtroppo me la fa sporgere di più. L'adattatore, come vedete, non è altro che un tubo vuoto, non c'è nessun elemento di vetro in mezzo, semplicemente adatta i contatti e l'attacco tra l'obiettivo e il corpo macchina. Ma come vedete, quando vado a toglierla, il sensore è coperto da una tendina, a differenza di tutte le altre mirrorless che invece il sensore è esposto. Quindi se dobbiamo fare dei cambi in ambienti polverosi, con i pioppi che volano come oggi, questo ci protegge il sensore. E andiamo a montare il 24-105 in kit. Come vedete, per essere un 24-105 risulta molto compatto, ha però la sfortuna di avere l'allungamento dell'elemento. La cosa carina è che questa ghiera frontale non è soltanto per l'autofocus, ma è personalizzabile potendo settare focus o control. Quindi su qua posso impostare una funzione, ad esempio posso aprire e chiudere il diaframma ruotando la ghiera, o alzare e abbassare l'esposimetro, gli ISO, insomma posso settarla per fare quello che voglio. Cambiare il tipo di punto di messa a fuoco, ad esempio faccio foto sportive, posso cambiare qua da punto singola in seguimento, semplicemente ruotando. Quindi è molto comodo. Alla fine se guardate un 35 fisso con l'adattatore diventa grosso come un 24-105. Senza sarebbe così. Quindi se non avete tantissime lenti EF, consiglio a comprare direttamente quelle RF native. Sono più leggere, sono di una nuova color grafico, come vedete è più opaco, riprende il corpo macchina e sono molto più piccoline, molto più leggere. Siamo venuti in questo ambiente molto buio, dentro una specie di grotta, per metterla sotto torchio pesante, vedere gli ISO, quanto viene su. Quindi siamo provati ad arrivare a 102.400 ISO, facendo scalini 3.200, 6.400, 6.400, 10.800 e 5.600, per vedere un po' come tiene. Ma proviamo anche in modalità video. Adesso io farò una ripresa a Gianluca, che si presta. Gianluca, vieni qua, grazie. E quindi adesso sto facendo l'aggancio sull'occhio e proverò a girargli intorno, per vedere anche, comunque sto girando un video a 6.400 ISO in 4K. Vediamo sia la stabilizzazione come si comporta. Sia mi allontano, sia mi avvicino. Fa un po' fatichina, molto buio. Ok, ora l'ha ripreso. Proviamo a zoomare. Zoomando questa lente purtroppo diventa buia e ecco che andando a F7 fa veramente fatica a ghanciarlo. L'ho perso, non prende più l'occhio a F7. Lo schermo, qui è molto comodo il fatto di poterlo ruotare, poterci spostare in ogni modo e l'adattamento automatico alla luminosità. Prima che eravamo sotto il sole lo schermo era brillantissimo, anche in sole pieno vedevo molto bene e adesso che siamo al buio non è troppo brillante e non mi infastidisce particolarmente. Stessa cosa il mirino. Anche il mirino ha sempre un'ottima luminosità e un'ottima riattibilità. Nonostante sia soltanto un 3,6 megapixel, l'abbiamo confrontato a quello di una Fujifilm H2 che ne ha quasi 6 di megapixel e non c'è tutta questa differenza. Vuol dire che Canon ha fatto veramente un ottimo lavoro su questo mirino. Ora vogliamo sottoporre a un altro test la capacità del processore di gestire i passaggi di luce. Vedete questo tunnel da lì diventa molto buio e viceversa uscendo c'è molta luce. Quindi faremo il doppio video in entrata, quindi da condizioni di luminosità normale a abbassare per vedere quanto il processore è in grado, lasciando la macchina in automatico, di passare velocemente, di diaframma, ISO, quello che deve fare, sia passare al buio che poi tornerà la luce. Quindi faremo questa doppia prova. Vediamo un po' come si comporta. Un'altra cosa che amo alla follia è l'autofocus. Come potete vedere ho varie modalità. Analizziamo il punto singolo, quindi un singolo punto. Col joystick, a differenza della 5D in cui ero legato ad avere dei punti 1, 2, 3, 4, 5, insomma a croce, qua come potete vedere posso scorrere ovunque mi pare fino all'angolo del fotogramma, tutto in cima, tutto in alto, è bellissimo. Qui è un altro punto in cui stressiamo bene la gamma dinamica del sensore, condizione difficilissima, dietro le finestre c'è il sole a palla e qua dentro siamo in ombra. Quindi proviamo, vediamo, vedete qua l'immagine, se io espongo il cielo, il cielo mi viene bene ma sotto è completamente bruciato, viceversa, chiaramente sotto è buono, il cielo è bruciato. Proviamo a fare due scatti, sempre siamo in RAW, ne farò uno esponendo sul cielo e uno invece esponendo sotto sul mattone. E questo qui poi vediamo in studio, recuperando le basse luci o abbassando le alte luci, a seconda dei due scatti, quale dei due regge meglio il sensore. Come sappiamo questa macchina ha stabilizzatore sia sul sensore sia sulla lente. Lasciandola su ON si parlano e decidono quale lavora dei due. Ma anche in modalità video, solo in modalità video, ho la possibilità di scegliere quale tipo di stabilizzazione del sensore utilizzare. Quindi OFF e sta lavorando soltanto quello della lente. normale, vediamo che fa un croppino, o normale avanzato e vedete che croppa ancora di più. Ovviamente più andiamo avanti più è stabile l'immagine, ma dovremo affrontare un crop. Può esserci utile se ci vogliamo avvicinarci più al soggetto oppure semplicemente dobbiamo tenerne conto se stai lavorando con un grand'angolo. Ma proviamo a fare questo pezzo camminando e vedere la differenza tra i tre. Allora così siamo in modalità normale. Questa qui è in modalità avanzato. E quest'ultimo è nella modalità super avanzata. Come vedete è molto zoomato, però tecnicamente dovrebbe compensare bene anche mentre cammino. E proviamo a fare anche un test un po' più estremo. Proverò ora a correre verso la camera e vediamo come se la cava la stabilizzazione. Questo qui l'abbiamo fatto con la stabilizzazione avanzata. Invece vediamo senza nulla per vedere un po' la differenza. Stessa corsa. Contro e indietro. Se invece disattivassi del tutto anche quello della lente, beh qua la situazione cambia decisamente. Ora testiamo l'autofocus in modalità sportiva. Qui c'è Gianluca che ci correrà incontro e ne facciamo una raffica anche per testare la raffica fotografica di questa macchina che arriva fino a 20 frame per secondo in fuoco continuo. Quindi tanta roba. Utilizza l'otturatore in modalità ibrida, quindi elettronica e non solo meccanico. Utilizzando solamente meccanico scendiamo sui circa 15. 15 però già tanta roba. Vediamo un po' come si comporta in un rafficone veloce. Batteria. Parliamo di durata della batteria. Allora con i test che abbiamo fatto, sono perdito la casa che la batteria era circa all'80% e un po' test, giro eccetera in un paio d'ore circa, stressandola, raffiche fotografiche, modalità video in 4K a 60, tutte le foto in RAW eccetera, la batteria è già esaurita. Quindi diciamo, secondo me ha fatto circa due o trecento scatti più una mezz'ora di riprese. Però schermo sempre acceso, manettato nelle impostazioni, quindi ok, non è ai livelli di una 5D. Se vi interessa l'autonomia, o li montate un battery pack, o restate sulle reflex che durano di più. Chiaramente il mirino elettronico, bello, comodo, ma consuma batteria. La cosa bella delle nuove batterie di Canon sono le LP6N H. Hanno aggiunto la H rispetto alle LP6N che montavano con le vecchie, ma sono tutte retrocompatibili. Voi potete prendere una batteria della Canon 5D Mark I, presentata nel 2000e, 3, 4, schiaffarla dentro a un R6 e funziona. L'unica differenza dell'H rispetto alle altre, oltre a chiaramente una capacità maggiore, è la possibilità di poterla ricaricare tramite cavo USB-C in camera. Quindi con la batteria in macchina io gli attacco il cavo USB-C e lei si ricarica. Se utilizzate le LP6 o L6N non si ricaricano. Tutto qua. Però potete utilizzare tranquillamente le batterie compatibili Patona. Io ho comprato le Patona V1 che hanno anche un chip di protezione e temperatura. Quindi quando si vanno a sorriscaldare troppo interrompono l'alimentazione per evitare di bruciare la camera. Parlo della temperatura perché? Perché questa Canon ha un grosso difetto. Scalda dannatamente tanto. In queste riprese video a tenerle in mano proprio sentivo che l'impagnatura diventava rovente. Quindi fare video molto lunghi, molto continuativi non è la macchina che fa per voi. Per riprese veloci, clip, eccetera, meglio. Se fa molto caldo e fate una clip in 4K60 da 30 minuti vi si sovriscalda, va in blocco la macchina e stoppa la ripresa. Quindi tenetene conto. Ok, quindi la parte un po' all'aperto in questa prima giornata di test con la R6 direi che è andata. Torniamo in studio a realizzare un po' quello che abbiamo fatto oggi. Ed eccoci tornati in studio. batteria vuota ma schede di memoria belle, belle, piene di file. Andiamo ora a analizzare questi scatti che avevamo fatto nelle finestre per volere andare a vedere la gamba dinamica. Allora li apriamo i RAW con Photoshop. Come vi ho detto, una foto è stata esposta la mattonella sotto che come vedete qui quindi è esposta correttamente ma il cielo risulta brociato mentre in quest'altra avevamo esposto il cielo che risulta più correttamente azzurro rispetto a qua che è completamente bianco ma le ombre sono completamente nere. Quindi andiamo a vedere se gestisce meglio l'abbassamento delle luci o il recupero delle ombre. Ora provo ad abbassare le luci vediamo che qua un po' recupera ma l'immagine va non mi piace come diventa. Se provo invece ad abbassare l'esposizione comunque non ho il recupero del cielo e vado a perdere anche il sotto le ombre. Viceversa proviamo con questa qui invece a aprire le ombre e vediamo quando diventano visibili. Allora bisogna andare fino a più 100 per rendere visibili. Questo era chiaramente un caso limite però qui ho tenuto la cromia corretta del cielo e l'ombra sotto è visibile. Ora se andiamo a fare un ingrandimento al 100% anche di più andiamo ad esempio al 300% noteremo che qua in alto il rumore alzandole come possiamo vedere da totalmente buio a vederle ma ha entrato tantissimo rumore con un po' di riduzione rumore magari si riesce a fare qualcosa ma non più di tanto. C'è la nuova funzione di camera roll di riduzione del disturbo che come però vediamo impasta l'immagine e diventa verde cioè il miglioramento ha troppi pixel verdi di rumore ISO quindi diventa un po' inutilizzabile. Quindi per questa tipologia di scatto un po' estrema il consiglio è quello di fare più scatti in HDR su cavalletto e poi fare una fusione dopo perché in entrambi i casi qui mi si sono un po' sputtanate tutte le luci e qui ho troppo rumore ISO quindi dimostra comunque un'ottima gamma dinamica il fatto di riuscire ad aprire così tanto però è una condizione limite che ci obbliga a fare uno scatto multiplo. Passiamo ora invece al test dell'ISO come abbiamo detto abbiamo fatto diversi scatti non eravano su cavalletto scusate per l'inquadratura non identica a 3200 ISO che possiamo vedere qua 6400 12800 25600 51200 e 102400 allora questo ultimo scatto chiaramente è inutilizzabile a me interessa vedere comunque questo 6400 che sono già valori alti che non è malvagio ricordiamo questo erro appena aperto senza fatto nulla e anche 12800 proviamo a fare un ingrandimento al 200% il rumore chiaramente c'è si vede già 3200 stesso ingrandimento del 200% un pochino più contenuto ma devo dire comunque una buona tenuta il fatto di poter scattare a 11400 è chiaramente un caso limite è una possibilità che abbiamo ma raramente ci scatteremo mi viene da pensare se devo fare un safari o un 600 mm magari con i nuovi RF che sono f11 veramente bui e c'è poca luce devo scattare così ma cosa interessante del nuovo camera raw 15.3 che ci permette di fare con l'intelligenza artificiale una riduzione del disturbo e in questo caso qua si è comportato si è comportato molto bene devo dire perché guardate ad esempio sulla persona qua la riduzione che va a fare non dico che il file è utilizzabile in stampa ma ci salva il risultato in caso limite si riesce a fare se dobbiamo fare un uccello che vola con un 500esimo di notte con un f11 cioè di notte poca luce con un f11 tra portare a casa niente portare a casa comunque uno scatto così non è male mi piace pensare di poter comunque usare i 6400 ISO pure qua il 200% c'è rumore ma col miglioramento qui è molto più attenuato quasi quasi sparisce file tranquillamente utilizzabile chiaramente perde un po' di incisione ci tengo a specificare che comunque ero con una lente f4 al buio 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 e a un 50esimo a mano libera quindi magari c'è anche un filo di micromosso la lente più luminosa sicuramente ha dei risultati migliori però è interessante vedere come si comporta la gestione ISO anche nel recupero passiamo un attimo a un ritratto e vediamo questo scatto del buon Gianluca che in questo video l'abbiamo torturato abbastanza questo qui è il RAW appena aperto devo dire che comunque già i colori dell'incarnato mi piacciono e la cosa che mi interessa di questa foto è farvi notare una cosa è scattata col 24-105 tra l'altro a 24 mm f4 quindi a tutta apertura dove dà il peggio di sé tecnicamente meno nitida la lente ed è una lente da 100 euro ecco io vorrei farvi vedere con un ingrandimento del 200% comunque che bella incisione ha ma nonostante sia una lente da appunto soltanto 200 euro questo vuol dire che questo sensore è veramente veramente una bomba di sensore inoltre se non vi bastano 20 megapixel appunto qua sul 200 si inizia a notare che a pochi megapixel sono solamente 3,20 già al 100 è un'immagine usabilissima ma possiamo sfruttare l'opzione della super resolution del nuovo photoshop e andiamo a vedere guardate come va a migliorare la definizione quindi se avete bisogno di fare stampe di grossi formati o siete fan della super incisione comunque non mi interessa far vedere tanto queste funzioni di photoshop quanto i colori e l'incisione della lente chiaramente con lenti di qualità superiore verrà ancora meglio ma già così l'incisione mi piace molto e i colori mi piacciono molto ditemi la vostra nei commenti passiamo quindi alla super raffica fotografica a 20 foto al secondo allora tanto per cominciare ho utilizzato sempre il 24-105 avevo quello montato quello usato questo tipo di foto non vanno bene con quella lente sarebbe da utilizzare nel mio parco ottica ad esempio il 70-200 f2.8 perché utilizzando la 105 e utilizzando soprattutto un 4 millesimo per congelare l'immagine è salito cioè il diaframma massimo era f8 come potete vedere qua in alto quindi è andato a 10.000 ISO quindi non analizziamo la qualità di immagine ma l'autofocus qua mi interessa guardare tanto il fuoco a parte che 20 foto al secondo praticamente sembra quasi di avere un filmato però la cosa che vorrei farvi notare è che ha agganciato l'occhio a inizio scatto e Gianluca correva abbastanza velocemente verso di me e non l'ha mai perso addirittura guardate quando è arrivato molto vicino comunque continua a essere agganciato ci mette qualche secondo l'anteprima di Photoshop vabbè il rumore c'è ma appunto stai dicendo di non analizzare questo è assurdo che guardate fino a che era qua quindi a bordo foto l'occhio era ancora a fuoco fino a che chiaramente poi è uscito dall'immagine qua ha ancora tenuto la maglietta poi ho interrotto la raffica qui poi sarebbe andato a fuoco sul retro però incredibile veramente questo questo aggancio di fuoco di questa macchina di uno scatto un po' più real life niente condizioni estreme come stavamo facendo prima allora qui c'è sul 35 mm quindi un filino più nitido dell'altro come possiamo vedere a me interessava dare risalto comunque alle persone qua l'esposimetro lavorava più o meno su questo ragazzo il bilanciamento del bianco direi che è andato bene ho le luci bruciate qua e qua come possiamo vedere in questo caso il recupero delle alte luci guardate sul pavimento e in alto sull'ombrellone in questo caso lavora invece molto bene a differenza di prima che era una condizione un po' limite potrei anche andare a lavorare un po' sul contrasto per far risaltare di più questi contorni e poi recuperare un filino le ombre comunque il file è molto lavorabile anche i colori sono belli a me piacciono si può magari scaldarla giusto un filetto comunque questo qui era uno scatto più per farvi vedere che nelle condizioni reali il recupero delle luci o delle ombre risulta molto buona a differenza del caso limite della finestra che vi abbiamo fatto vedere prima altro scatto in condizioni diciamo semplici per determinare un po' la possibilità di more di questo sensore ma al filtro passa basso che perdiamo qualcosa di incisione ma come vediamo in questo patter di mattonelle molto vicine non andiamo a rischio di more anche grazie a un sensore non troppo risoluto anche addirittura qua sulla griglietta dove c'era forte rischio in realtà si è comportato bene visto a scramenterò qualche alonino fa ma neanche tanta roba e appunto andando a vedere al 200% vediamo comunque una buona incisione sia al centro che agli angoli al centro si comporta un filo meglio qua siamo a 105 mm f7.1 quindi in realtà a tutta apertura so che sembra assurdo dirlo ma questa lente a 105 mm f7.1 è a tutta apertura direi che non si è comportata malaccio c'è da ricordare che sta utilizzando in automatico il profilo di correzione della lente andandolo a togliere vediamo che la vintettatura è un po' più importante però a ci interesse in realtà qua analizzare non tanto la lente quanto il sensore e il sensore si è comportato bene nessun moree uniformità buona di dettaglio ovunque allora questo scatto che vi potrà sembrare assolutamente inutile serve a dimostrare una cosa era un test che volevo fare ovvero questa qui guardate qua un quarto di secondo a parte f20 ma un quarto di secondo ero a mano libera ed era per testare quanto lo stabilizzatore riesce a compensare andiamo a vedere comunque ho fatto su una scritta che si riesce meglio a intuire se è mossa sì non è incisissima siamo tutti d'accordo anche perché f20 inizia ad avere un po' di diffrazione la lente però cavolo siamo a un quarto di secondo a mano libera ragazzi lo fate con una macchina senza stabilizzatore sul sensore non riuscite a leggere una scritta pazzesca questa cosa speriamo che questo video vi sia piaciuto se volete continuare a supportarci e a vedere contenuti di questo tipo mettete un bel mi piace al video e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina è un piccolo gesto per voi ma per noi vale molto vi annuncio che farò un viaggio a Madeira con questa Canon quindi testerò la userò un po' come vlog camera e vediamo un attimo come si comporta anche in questo viaggio quindi seguiteci per vedere questo interessantissimo viaggio in un'isola bellissima in mezzo all'oceano atlantico a presto e un saluto da The Italian Maker e un'isola e un'isola a presto e un'isola a presto Grazie a tutti.